Un reato di corruzione, come avete sentito, in atti giudiziari a carico di David Mills è da considerarsi prescritto. Lo hanno deciso circa un'ora fa le sezioni penali riunite della Corte di Cassazione. Al momento resta ancora in piedi il processo per lo stesso reato che vede imputato il Premier Silvio Berlusconi. La prescrizione per il Presidente del Consiglio infatti maturerà soltanto tra 11 mesi. Ti piace vincere facile? Il dollaro si cala poi si inghezza e vai in aumento, ma a me che me ne frega tanto i soldi non ce l'ho. Everyone, in americheno! Oepie pie 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 pie杯 binesse Uepie pie 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 Pic�eronfesse Oepie pie 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 апinesse E moni 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 non ce l'ho! Yes!